Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, nella speranza di Topolina non si bruci proprio durante il video oggi vi voglio parlare finalmente di corsa, di scarpe e di come ho cambiato le mie scarpe dopo circa 700 km non è fatta allora per chi di voi mi segue già sa che da luglio io e Marco abbiamo iniziato a correre allora già prima ovviamente correvamo un po' nel senso che durante i workout a livello così ludico tra virgolette ogni tanto andavamo a corricchiare Topolina ma niente di impegnativo mentre oggi da luglio ci siamo messi a correre come forma di allenamento ok quindi come sport questo cosa vuol dire non necessariamente gareggiare, non necessariamente fare chissà che tempi o numeri ma correre con una certa frequenza, monitorare diciamo quello che può essere la velocità quello che può essere il miglioramento appunto delle varie tempi, la velocità insomma tutte queste cose qua e quindi fondamentalmente ci siamo appassionati io personalmente nonostante abbia corso anche in passato è la prima volta che lo faccio appunto con regolarità e in questo modo qui allora che cosa è successo? che io ho iniziato a correre con delle scarpe un po' vecchiotte che avevo preso sempre per la corsa ma non vi so dire quanti anni fa non vi so dire quindi effettivamente quanto già ci avessi corso vi so dire però che da luglio ad oggi ci ho fatto più di 500 km adesso ve le faccio vedere bene le scarpe con cui ho corso fino ad oggi sono queste sauconi che ormai vantano un discreto numero di anni come potete vedere iniziano ad essere un po' consumate si vede da qua soprattutto perché si vede la parte di gomma che sta sotto il primo strato ok allora anche per chi non corre a livello professionale diciamo le scarpe sono importanti perché la corsa nonostante possa essere un allenamento non necessariamente di altissimo impatto è comunque un allenamento molto logorante tra virgolette se lo si fa in modo continuativo e frequente perché fondamentalmente è un momento ripetuto che viene portato avanti anche per ore nel caso in cui appunto ci si alleni per maratone, mezzo maratone eccetera e quindi la scarpa più che qualsiasi altra cosa è davvero davvero importante perché nonostante magari non ci possiamo far caso all'inizio con il tempo si possono arrivare ad avere dei problemini problemini alle articolazioni problemini insomma di qualsiasi genere l'appoggio del piede, l'ammortizzazione quindi non solo a livello performativo non dovete pensare che se iniziate a correre non avete bisogno della scarpa figa perché non dovete fare chissà che tempio è proprio una questione di manutenzione una questione di salute una questione di prevenzione degli infortuni quindi diciamo io ho la fortuna di avere un appoggio abbastanza neutro per chi di voi già ha esperienza avrà notato che sì è abbastanza neutro ma chiaramente tendo a subinare un pochino e si vede da qua però e quindi non ho grossi problemi non ho grandi asimmetrie non ho diciamo un corro in modo abbastanza regolare quindi anche dopo tutti questi chilometri anche dopo aver utilizzato queste scarpe che tappatevi le orecchie runner sono state lavate in lavatrice prima di ricominciare a utilizzarle non ho avuto problemi ma a un certo punto diciamo che non si deve ragionare sul ah non ho problemi quindi vado avanti si deve ragionare anche a livello di prevenzione ok? quindi per questo a un certo punto ho deciso di cambiare le scarpe ma come fare a cambiare queste scarpe? come si fa a sapere quale tipo di scarpa è più adatta a me? cosa dovrei scegliere? quanto spenderci? allora io sono passata da Saucony ad Adidas premetto questo video non è sponsorizzato da nessuno non è in collaborazione con nessuno quindi tutto quello che vi dico è semplicemente la mia esperienza quindi fondamentalmente che cosa ho fatto? ho iniziato a cercare online anzi prima sono andata in un paio di negozi non mi sono trovata bene lasciamolo stare le cose negative passiamo alle cose positive quindi sono andata in quello che è il mondo dove meglio mi muovo ovvero il mondo online quindi ho cercato un sito, un portale un posto dove io potessi attraverso i dati inseriti trovare il tipo di scarpa adatto a me e l'ho trovato in mrrunning.com mrrunning.com è un sito molto interessante perché come vi mostro qua di lato voi che cosa potete fare? potete inserire i vostri dati quindi peso quanto diciamo qual è la vostra velocità media su che tipo di strada su che tipo di pavimentazione correte se è ibrida se è asfalto se è sterrato se fate trail run eccetera insomma tutta una serie di caratteristiche per poter scegliere le scarpe adatte a voi ora diciamo che più si è non dico esperti però insomma più si conoscono le proprie caratteristiche tecniche più facile è nel senso che per esempio una persona che vuole iniziare a correre magari non sa se tende a pronare o a supinare magari non sa nemmeno che vuol dire pronare e supinare quindi in questo caso per esempio è molto interessante perché loro hanno anche la possibilità di fare un test online quindi inviando un video sul tapirulan saranno loro a individuare le caratteristiche tecniche che voi non conoscete proprio di voi stessi saranno loro a indirizzarvi mentre invece se più o meno già avete un'idea io per esempio so di avere un appoggio abbastanza neutro leggermente supinatore so già qual è la mia corsa standard media quindi per quanti chilometri corro in media quanto veloce vado eccetera quindi sono tutte caratteristiche che ho potuto inserire all'interno della ricerca e in base a questo appunto mi sono stati selezionati dei modelli io ho scelto quello che corrispondeva alle caratteristiche quello che aveva lo sconto maggiore nel senso che ovviamente se come nel mio caso avete la fortuna di trovare un modello per cui c'è l'ultimo numero che è il vostro magari lo trovate anche a metà prezzo come è stato per me e poi anche un po' per curiosità mi sono avvicinata ad adidas che non avevo mai provato abbigliamento sì proprio a palate mentre invece per quel che riguarda le calzature avevo provato semplicemente delle scarpe o casual oppure da fitness molto generiche mentre invece sono andata sulle adidas perché ero appunto incuriosita e le ho volute provare e ho preso queste che adesso vi faccio vedere allora queste sono le scarpe che ho scelto e il numero per esempio è anche una cosa importante sul quale troverete delle indicazioni il numero da scegliere dipende un po' dalla marca un po' dal fatto che quindi alcune marche calzano più precise altre calzano più strette, più larghe eccetera in più bisogna considerare che nella corsa ci sono dei fattori da tenere in considerazione appunto questi fattori sono per esempio il fatto che il piede si possa se facciamo lunghi tragitti il piede si può gonfiare se andiamo a correre la sera la condizione del piede sarà diversa rispetto alla mattina dipende il calzino che utilizziamo insomma dipende da un po' di cose e tendenzialmente è quasi sempre meglio prendere un mezzo numero in più quando non addirittura un numero in più io personalmente queste le ho prese del mio numero perché sul sito adidas ho letto che le solar boost quindi questo modello qui calzano praticamente in modo analogo rispetto alle calzature normali avevo il dubbio nel senso che loro stessi ti dicono che puoi scegliere se hai il dubbio tra due numeri un po' più piccolo o un po' più grande dipende un po' dalla tua sensazione di fit quindi se le preferisci un po' più aderenti o un po' più larghe io le ho prese del mio numero sapendo che comunque avrei fatto un tentativo e infatti adesso farò un altro tentativo con delle scarpe un po' più grandi sempre adidas che ho già ordinato dipende anche secondo me molto da quanto ci corriamo nel senso che le sensazioni che noi abbiamo sui 5 km sono molto diverse dalle sensazioni che abbiamo su una mezza maratona appunto perché il piede si gonfia appunto perché le sollecitazioni sono continue e costanti per un tempo molto più lungo possono essere diverse in inverno e in estate dipendono da una serie di fattori quindi diciamo che ci sono dei ragionamenti da fare abbastanza matematici ma non c'è una formula precisa dipende dalla persona quindi io per ora ho scelto queste sono già andata a correrci ci ho fatto dei tragetti medio brevi quindi ho fatto la prima volta 5 km mi sembra poi ne ho fatti 15 poi ne ho fatti 8 diciamo e non ho avuto problemi quindi posso dire che di aver azzeccato il numero tra virgolette ma posso anche dire che la mia sensazione comunque è di avere una scarpa giusta e quindi vorrei provare anche appunto con il numero un pochino più grande cosa che farò perché onestamente non so sulla mezza maratona o distanze anche maggiori come le posso sentire e come le posso sentire in estate quando il piede appunto può essere un pochino più gonfio quindi questo è quindi riassumendo che cosa vi voglio dire con questo video uno se decidete di iniziare a correre o avete già iniziato a correre occhio alle scarpe perché è una cosa molto importante io l'ho presa un po' sotto gamba inizialmente perché so appunto cioè comunque mi alleno da mille anni conosco bene il mio corpo eccetera conosco bene l'appoggio quindi nonostante per me la corsa sia uno sport relativamente nuovo proprio come sport come allenamento costante comunque diciamo che sono abbastanza consapevole e quindi appunto avendo un appoggio più o meno neutro un peso cioè essendo allenata eccetera ok sono andata un po' avanti con questa nonostante i miei amici runner mi abbiano cazziata giustamente varie volte però a un certo punto nonostante comunque stessi andando bene ho deciso di cambiarle sono andata sul sito mrrunning.com vi ripeto questa non è una collaborazione quindi ve lo dico proprio spassionatamente è dove abbiamo acquistato le scarpe io e Marco sono stati super rapidi i prezzi sono buoni la consulenza appunto sia con la scheda se siete già un pochino più tra virgolette consapevoli la potete fare autonomamente cioè per la consulenza nel senso trovare il tipo di scarpe lo potete fare autonomamente se avete dubbi potete fare il test vi basta avere un tapirulan e un telefono e un cavalletto insomma per riprendervi poi lo vedete direttamente sul sito per quel che riguarda il numero seguite le indicazioni tenete conto ovviamente dei fattori che vi ho detto prima che altro ah un'altra cosa io ho notato che poi vi aggiornerò nei prossimi video però ho notato che stranamente da quando ho cambiato scarpa le ultime tre volte che sono andata a correre i miei tempi sono magicamente migliorati ecco non si pensi che con una scarpa nuova soprattutto se si è principianti si arriva a fare dei tempi da pro eccetera però io l'ho presa per appunto prevenzione di infortuni manutenzione eccetera ma mi sono felicemente resa conto che una scarpa tecnica una scarpa buona ti fa anche correre meglio ti fa percepire meno la fatica e di conseguenza a parità di sforzo vai anche un po' più veloce quindi questo è il mio primo aggiornamento vi aggiornerò prossimamente so che vi avevo promesso di fare video più spesso questo ve l'ho promesso circa tre mesi fa ma vi prometto che proverò ad essere più costante quindi fatemi sapere nei commenti che cosa vi piacerebbe sapere nei prossimi video lasciatemi delle domande sarò felice di rispondere alle vostre domande via video e ci vediamo al prossimo ciao